Auto fuoristrada venerdì mattina alle porte di Feinze a causa di un tamponamento sulla Bresigellese. Dinamica spaventosa per un incidente che fortunatamente si è concluso con conseguenze contenute. Lo scontro è avvenuto poco dopo la trattoria e la cartiera. Mentre procedeva in direzione di Feinze una Suzuki Swift è stata tamponata da una lancia Ypsilon finendo contro i cassonetti della spazzatura e poi giù nella scarpata del fosso. Il conducente è però riuscito a cavarsela con ferite di media entità ed è stato ricoverato all'ospedale di Feinze. Illeso l'altro automobilista mentre grande paura per un anziano passante che è stato sfiorato dalla Suzuki mentre si trovavano impressi dei cassonetti. Anche per lui sono stati necessari i soccorsi degli operatori del 118.